buongiorno buongiorno siamo in diretta buongiorno grazie ad ancelotti che ho avuto la pazienza di attenderci non le chiedo la formazione perché a questo punto mi sembra un esercizio abbastanza inutile però le chiedo se le scelte di formazione di domani saranno in qualche modo condizionate dagli impegni contro il pari san germain e contro la roma la prossima settimana assolutamente no perché la partita di domani è una partita importante per ricominciare quello che avevamo lasciato abbiamo finito bene prima della sosta e vogliamo ricominciare nella stessa maniera quindi assoluta priorità alla partita di domani alla trasferta vi voglio dare dei vantaggi ci abbiamo dei giocatori indisponibili quindi avete meno possibilità di fare errori quindi abbiamo fuori per domani luperto onas in signe che non che non viaggeranno stanno qua che notizia in signe ma qualche problema è solo un faticamento no non ha un problema non ha un problema grosso però è indisponibile per domani e lavorerà in questi giorni per recuperarlo per mercoledì l'ultima domanda per quel che mi riguarda ha parlato pochi minuti fa massimiliano allegri ha detto vogliamo vincere contro il geno anche per mettere pressione al napoli le chiedo se in questo momento sentite un po la pressione di dovere in qualche modo inseguire la juventus o qualche modo è un riconoscimento della vostra forza in questa dichiarazione no la pressione c'è perché come ho detto vogliamo migliorare vogliamo continuare proseguire la striscia positiva che c'è che abbiamo avuto prima della sosta a continuare a crescere e questo già ci mette pressione non è che siamo qui a fare a fare calcoli perciò non dobbiamo guardare in casa da altre cercare di fare il nostro cammino media set buongiorno mister volevo chiedere se in questo momento la sua priorità è vincere qualcosa con il napoli o come la sta invitando de laurentis a prolungare il contratto la mia priorità è fare bene qua cercare di fare il possibile come ha detto di essere competitivi in tutte le competizioni poi dopo tutto il resto tutto il resto è secondario quando ci si trova bene in un posto e quando gli altri si trova bene con te diciamo proseguire non è mai stato un problema io mi l'ho detto tante volte penso che anche gli altri si trovano bene con me la società si trova bene con me il presidente diciamo è un cammino che iniziato da poco che può che sono convinto se possa essere anche migliore in futuro la seconda di politica calcistica lunedì verrà eletto nuovo presidente federale tra le novità che vorrebbe introdurre quindi lo chiede a lei che un allenatore la quarta o la quinta sostituzione ma soprattutto i play off scudetto ma non lo so non lo so io credo che anche questi secondo me sono dettagli che è importante per la federazione diciamo trovare stabilità cosa che non ha avuto nell'ultimo periodo visto che anche diciamo l'ultima partita della nazionale ha dato dei segnali molto confortanti e quindi stabilità della federazione continuità della nazionale a credo che diciamo si può uscire velocemente dal periodo difficile non so che dire perché è stato un argomento che è stato trattato anche a ginevra in qualche occasione è stata utilizzata la quarta sostituzione nei tempi supplementari e credo che può essere una cosa giusta mettere la quarta la quinta sostituzione in un tempo regolamentare non è che sono tanto d'accordo per quello che riguarda il play off scudetto no io credo che la forma del campionato va bene così il mattino buongiorno carlo è sottolineato più volte testa esclusivamente all'udinese perché è una partita insomma complicato comunque da affrontare al massimo appunto come attenzione ecco quali sono le insidie maggiori riferite a questa sfida e perché ecco per la tipologia di avversario e perché si riprende dopo una sosta ma le insidie sono quelle di tutte le partite di considerare una partita agevole le partite sono agevoli dopo non prima tutte le partite prima presentano delle difficoltà e quindi l'insidia maggiore è quella di non avere la capacità fisica e mentale di esprimere tutto il potenziale che abbiamo questo è diciamo l'obiettivo che ci proponiamo prima di ogni partita perché se riusciamo a esprimere tutto il potenziale a livello di qualità a livello di mentalità è più facile che vinciamo che le vinciamo le partite che non il contrario Corriere dello Sport Carlo quanto pesano gli impegni delle nazionali nelle tue valutazioni? Beh è chiaro che nella valutazione della partita di domani do sicuramente priorità a quelli che sono stati qua perché dopo è vero che ci sono giocatori che sono rientrati non so Milic e Zienis che hanno giocato domenica quindi hanno avuto tutto il tempo per recuperare però bisogna considerare anche i viaggi sicuramente la priorità a quelli che sono rimasti qui ad allenarsi c'è e poi dopo la valutazione del grado di affaticamento degli altri che insomma a parte il piccolo problema che ha avuto Lorenzo gli altri più o meno hanno recuperato tutti considerato che alcuni come Ospini è arrivato ieri, Diawara si è allenato oggi perciò le considerazioni da fare sono solo quelle Un'altra cosa la partita di mercoledì non è assolutamente una distrazione mi dicevi ma in casi del genere e in fasi del genere in momenti del genere una squadra tende a ragionare diversamente cioè anche no non penso perché a parte che insomma l'argomento non è stato trattato e non lo voglio trattare quindi la priorità è l'udinese e credo che i giocatori sono ben consapevoli e coscienti di questo se facciamo bene con l'udinese c'è la possibilità anche di preparare meglio la partita col Paris Saint Germain questo è fuori discussione perciò non c'è nessun disturbo riguardante l'impegno che dovremmo avere mercoledì Repubblica eccomi ne ho due la prima su Insigne è recuperabile per la partita di Parigi? pensiamo di sì ok e la seconda invece hai parlato prima di potenziale ci sono giocatori che da quando sei arrivato possono ancora esprimere il massimo del loro potenziale cioè che non hanno ancora espresso il massimo del potenziale sì ci sono insomma ci sono stati dei cambiamenti ci sono stati dei cambiamenti in questo periodo quindi è normale che alcuni si devono adattare alcuni si adattano prima altri un poco dopo però insomma generalmente del rendimento del rendimento diciamo individuale sono soddisfatto più o meno di tutti però ci sono dei giocatori che hanno notevoli margini di miglioramento Ospina Carnezis Malquit Isai Albiol Colibali tutti Radio Ghis Khis sì buongiorno buongiorno mister in queste settimane ho avuto modo di intervistare Usai Allan Albiol Verdi quindi vecchi e storici e tutti mi dicevano Ancelotti ci ha trasmesso qualcosa di speciale addirittura ieri Usai ha detto dopo il Liverpool sappiamo di poter battere chiunque è quella mentalità che volevi trasferire al tuo gruppo ma sì vorrei avere un gruppo che ha mentalità che ha personalità ma la mentalità si costruisce con partite come contro il Liverpool sono partite che ti aiutano a crescere più in fretta ma la partita del Liverpool l'hanno giocato ai giocatori perciò la consapevolezza ce la sono dati loro stessi nell'interpretare bene la partita nel 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 farla con grande spirito di sacrificio con grande attenzione e quindi la consapevolezza cresce con le loro prestazioni non certo per quello che io gli dico è la consapevolezza